Bangalove al posto delle cabine negli stabilimenti. La proposta è arrivata in commissione al comune di Pescara e già fa discutere se da un lato chi la propone pensa ad eliminare costruzioni che impoveriscono la bellezza paesaggistica del lungomare, dall'altra c'è chi sottolinea il rischio di una nuova cementificazione e realizzazione di strutture poco confacenti al paesaggio marittimo. Tra poco diranno che bisogna fare anche i negozi sulla spiaggia e ci sono alcuni ingordi che non capiscono che bisogna darsi una calmata. La spiaggia è già tutta o quasi edificata, non c'è bisogno assolutamente di dare anche una funzione ricettiva. Padovano già aveva provato dieci anni fa a far passare questa cosa e aveva anche l'idea di inserire strutture commerciali. Maurizio Cerbo pensa anche al rischio che si correrebbe con la realizzazione di strutture aperte tutto l'anno. Poi non vorrei che ci ritroveremo ad avere dei locali di dubbia fama lungo tutta la riviera. Sono concessioni, se lo mettessero in testa. Io sono stupito che il sindaco del Vecchio e questa maggioranza vadano appresso a Riccardo Padovano, che già si è inventato lo sdoppiamento delle concessioni, che ha fatto sì che laddove c'era uno stabilimento balneare oggi in molti casi ce ne sono due.